Le complesse problematiche relative all'esecuzione penale e al sistema penitenziario in generale richiedono professionalità altrettanto complesse. Ecco perché insieme alla Fondazione Bucciarelli e all'AIA nazionale abbiamo deciso di organizzare con chi vi parla il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private e della libertà personale della Regione Calabria, un corso di alta formazione professionale proprio in diritto penitenziario e sociologia della pena. Il corso è indirizzato in particolare agli avvocati ma anche ai praticanti avvocati e a quanti interagiscono con le complesse problematiche del sistema penitenziario e del diritto dell'esecuzione penale. Non tralasceremo aspetti importanti come quello della sociologia della pena insieme alla professoressa Sofia Ciuffoletti che peraltro è la Garante Comunale del Comune di San Gimignano, ma parteciperanno anche il professore Giovanni Fiandaca, il professore Arturo Capone, il garante nazionale Mauro Palma e magistrati di sorveglianza del calibro di Riccardo De Vito, Fabio Gianfilippi e Marcello Bortolato, oltre a Michele Passione che è un avvocato esperto proprio in esecuzione penale e diritto penitenziario. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 di dicembre 2020. Il corso comincerà proprio nel mese di dicembre 2020, quindi vi invito ad iscrivervi perché potrete attrezzarvi di una competenza settoriale e specifica certamente fondamentale nell'esercizio della funzione di avvocato.